Benvenuti a Vanzi. Tutti i nostri corsi sono di liceo scientifico di ordinamento e hanno lo scopo di sviluppare profonde competenze sia in ambito umanistico, letterario, filosofico, sia in ambito scientifico. Le metodologie da noi utilizzate sono particolarmente innovative e questo ci ha consentito in questi anni di avere importanti riconoscimenti sia sul piano nazionale che internazionale nei percorsi di eccellenza. Grazie per la visione! Ero molto contento soprattutto poi l'esperienza di andare lì sopra il palco durante la prima di prima azione a ricevere questa medaglia. C'è sempre un po' l'amarezza per non aver fatto meglio, magari aver preso una medaglia d'oro, però alla fine tutto sommato è stata un'ottima conclusione per quella bellissima esperienza che è stata lì in Corea, durata da diversi giorni, mi segnerà la vita probabilmente. Per far fronte ai veloci cambiamenti che avvengono in ambito sociale, ambientale, economico e tecnologico, la nostra scuola ha compreso che deve uscire dalle sue mura, superare l'autoreferenzialità e connettersi con il territorio, con gli enti, con le associazioni, con i cittadini, per vivere assieme le energie del cambiamento. L'innovazione digitale caratterizza tutti i nostri processi formativi. In questi anni ci siamo dotati di una efficiente struttura e infrastruttura, materiale e immateriale, che ci ha consentito di affrontare con successo le difficoltà poste dalla pandemia in atto. La nostra scuola da anni è Test Center AICA per il conseguimento della certificazione ICDL che gli studenti possono conseguire seguendo corsi organizzati dal nostro istituto. Inclusione per noi significa riconoscere i bisogni di tutti gli studenti e di ciascuno, non solo sul piano degli apprendimenti ma anche su quello emotivo. Grande importanza riconosciamo alla relazione educativa e collaboriamo con i genitori affinché possano sostenere i processi di crescita dei nostri ragazzi. I progetti accoglienza e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo vanno in questa direzione. La valorizzazione degli apprendimenti informali e non formali rientra pienamente in questa strategia di integrazione. L'internazionalizzazione è una delle nostre priorità. In questi anni abbiamo promosso scambi internazionali di studenti e di classi. Da noi è possibile seguire corsi per il conseguimento delle certificazioni in lingua inglese fino al livello C1 del quadro comune europeo di riferimento, corsi per l'apprendimento della lingua spagnola e della lingua cinese. Importanti sono stati i progetti realizzati nell'ambito di e-tweening, tanto che la scuola ha ottenuto un riconoscimento di qualità a livello nazionale. Intensa è la progettazione nel contesto Erasmus. I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sono strutturati in modo da valorizzare i talenti di ciascuno. Grazie alle numerose convenzioni che la scuola ha stipulato con università, con aziende, enti ed associazioni del territorio, gli studenti possono scegliere i percorsi secondo i loro interessi. Anche questo risponde al principio di personalizzazione di un processo di formazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!